Un tunnel lungo 40 metri tra la Cina e la regione amministrativa speciale di Hong Kong. In cemento, dotato di un sistema di ventilazione, luce e piccole rotaie per carrellini, secondo le autorità cinesi che lo hanno scoperto, era stato realizzato per il contrabbando di oggetti elettronici, un modo per aggirare le tasse e fare buoni affari con l'ex colonia britannica.